Musica Salve amici appassionati di Football Manager Qui con voi come sempre c'è Mike94 E ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo con la mitica carriera con lo Spezia E come potete ben vedere io sono ancora fermo subito dopo la partita con Galatasaray Perché siamo qui Non per vedere la partita dell'Underlecht Che credo forse mi andrò a vedere a giocare a telecamere spente Ma perché ci sono un bel po' di domande che vi vorrei fare Sono arrivato a un punto fermo con il calcio mercato Come avete già visto la formazione è quasi fatta Manca qualche ultimo campioncino Uno come prima punta E soprattutto uno al centro campo Perché Taylor per il momento non mi convince appieno Sicuramente però sarà un ottimo panchinaro Ho cercato fra i vostri consigli e anche altri giocatori Che conoscevo io Cioè conosco io E ci sono veramente tanti e tanti bei giocatori Che potremmo comprare E c'è anche una piccola sorpresa Io avevo pensato di farvela vedere proprio come sorpresa Come puntata singola Il colpo che vorrei fare Però prima di andare avanti vorrei chiederlo Perché io ero partito dicendo di fare un mercato interattivo Invece sono andato un po' avanti io da solo Ma vi ripeto perché mi ero proprio bloccato Non riuscivo a fare nulla Perché avevo paura di fare degli errori E per questo poi sono andato avanti da solo Però adesso vorrei provare a fare questo mercato Chiedendo a voi consigli Quindi dandovi delle precisazioni Delle scelte da fare E poi in base ai commenti In base alle scelte sia vostre che mia Ovviamente andremo avanti con lo Spezia Credo che sarà uno degli ultimi video sul mercato Perché sennò qua arriviamo a novembre E siamo ancora al calciomercato Stanno uscendo parecchi video in questo periodo Ma perché Un po' perché voglio andare avanti io con lo Spezia E un po' perché mi fa piacere Ma sto avendo molte richieste su consigli sulle carriere O anche consigli sui giocatori giovani E quindi per accontentare tutti Per far uscire il primo possibile video Sto anche facendo Questa settimana scorsa Tipo sono usciti 4 video E nulla Detto questo vi faccio vedere un po' la lista selezionati Vi spiego anche tutto il perché Ragazzi mentre cercavo Ho visto tutta la lista Ma proprio tutta la lista degli svincolati Vabbè qui non è Non c'è segnato perché Non ho salvato la La parte in cui cercavo Tutti i svincolati Li ho visti uno per uno Ragazzi guardate chi cacchio c'è fra gli svincolati Mattia Perin Quello è il portiere fortissimo del Genova È stato svincolato No mi pare che proprio il contratto era in scadenza E quindi non gli è stato rinnovato E non se l'è comprato nessuno Addirittura ora è in trattativa col Paddova Ah no col Piacenza mi pare Col Paddova no Ma nemmeno per un contratto Ma per fare un provino Ehm Io questa che cosa vi chiedo Ci sono due belle alternative in porta Ragazzi e Perin Ragazzi ragazzi Eh ho fatto la rima vabbè Ragazzi non è C'è nel gioco è un po' più forte rispetto alla realtà Nel Milan ha fatto veramente C'è quelle poche partite in cui ha giocato Non ha fatto bene Però qui nel gioco comunque È un onesto portiere anzi È molto buono Però io punterei fortemente su Mattia Perin Anzi ci ho anche parlato Diciamo A te che mi dispende ovviamente nel gioco Non nella realtà E lui sarebbe intenzionato a venire Da noi E quindi ora vi chiedo Ehm A parte Fra Perin e Agazzi Anche se io credo che la La scelta sia ovvia Ma Mattia Perin tutta la vita lo spezia A parte questo L'arrivo di uno di questi due portieri Quindi Fra Perin e Agazzi Significherebbe l'addio di uno dei nostri due portieri E Sorpresa sorpresa Sto trattando con il Barcellona Sentite Per Antonio Adan Il Barcellona sarebbe disposto a offrire Dai 5 Dai 4 ai 5 milioni Per Adan A parte che è una cifra Ehm Enorme Considerando che comunque Adan Noi l'abbiamo preso A parametro zero Però noi lo andremo a vendere E lo andremo a sostituire Con sì un giovane Forse anche un pelino pelino Più scarso Per un giovane che in futuro Fra in questo e il prossimo anno Diventerà una belba Quindi Ditemi voi Ehm Consigliatemi voi Prima di tutto Fra i due svincolati E poi Ditemi voi Preferite tenere Antonio Adan Che comunque è forte Però Oppure sostituirlo Con uno fra Perin e Agazzi Certo avere Perin allo Spezia Sarebbe un colpo assurdo Anche Agazzi Mi piacerebbe tanto E poi comunque 4 milioni Non fanno mai 4-5 milioni Non fanno mai schifo Questa è la prima domanda Che vi faccio Quindi fatemi sapere Se ci sarà il cambio di portiere o no In po' ora volevo farvi Come sorpresa Ehm Un video a sé Dicendo Cambio di portiere Mattia Perin allo Spezia Però Ehm Prima di andare avanti Visto che Vi avevo diciamo Promesso che Questo mercato finale Insomma Sarebbe stato interattivo Chiedo a voi Siete d'accordo Con questo cambio portiere Quindi Far arrivare allo Spezia Perin Ehm Mandare via Adan Vi avverso Che Mattia Perin Ha un contratto Leggermente più alto Rispetto a Adan Però ragazzi Io credo che Che valga la pena Ehm Prenderlo Però Io come sempre A questo punto Aspetto i vostri commenti Detto questo Parliamo del centrocampo Il centrocampo Ehm Per il momento Numericamente Siamo a posto così Abbiamo Un bel po' Di giocatori Quindi se arriva uno Io credo che Lollo Ritornerà in prestito Oppure Taylor Oppure Ehm Non lo so Sapara Non credo Perché è l'unico Centrocampista Con i piedi buoni Quindi uno Fra Taylor Pannewitz E Lollo Credo più Lollo Andranno in prestito Ci sono veramente Ottimi Ottimi centrocampisti E disponibilissimi A venire Ovviamente Chi più e chi meno Andiamo a vedere Badu Ehm Il giocatore Che vi ho sempre proposto Io Ne ho sempre parlato Benissimo Verrebbe per una cifra Intorno ai 2 milioni e mezzo 1.3 per Ludinese E la Juventus Io ho provato a trattare Prima All'inizio Mi chiedeva solo 500 mila euro Poi ha sparato 8 milioni Quindi comunque Secondo me Vesso i 3 milioni Massimo viene Un contratto di circa 1 milione e 100 E Badu sarà un nostro giocatore Che dire Badu è un ottimo Un ottimo Già l'ho detto Giocatore In prospettiva diventerà Ancora più forte Ha già caratteristiche Da titolarissimo Almeno nel nostro Spezia Quindi potrebbe fare Più che bene Le alternative a Badu Sono due Rabiot Che è un pelino Più scarso Adesso Statemi a sentire Adesso è un pelino Più scarso Di Badu Però in prospettiva Diventerà Una belba Come ben sapete Quest'anno La Roma è andato A cercarlo E veramente Del 95 Quindi solo 19 anni Con 6 milioni e mezzo 6 milioni circa Ce lo portiamo a casa E diventerà Veramente Una belba Spero In uno In due anni Io non so Sinceramente Se faremo Un tour de force Quindi faremo Una caterva Va di video Di video Sullo Spezia Comunque Giocherò Molto io Da solo E quindi Riusciremo A fare due anni O faremo Solo questo anno Comunque Rabiot È già Molto forte In prospettiva Addirittura 5 stelle Ragazzi È fortissimo È inutile Che ve lo dico Già Lo conoscete Ultima Alternativa È ancora più Economica Diciamo Badu Versi 3-3 milioni e mezzo Rabiot 6 milioni e mezzo Il contratto È molto simile Sembra lo stesso 1 milione e cento Si vanno a prendere Chi invece vuole Fortemente venire È questo Eric Falkenburg Che sono andato a cercare Ripeto Fra Fra i svincolati Così Viene dalla Z E Non mi sembra Affatto scarso Sì L'accelerazione La velocità Non è proprio da pro Però Qualità tecniche Ottime Qualità mentali Ottime E il resto Delle qualità fisiche Veramente ottime Non si prende Nemmeno troppo Pure lui Verso il milione Però mi sembra Davvero molto forte E comunque potrebbe essere Davvero molto forte Anche come Panchinaro Quindi Un arrivo di Rabiot e Badu Non escluderebbe L'arrivo di Falkenburg Però ovviamente L'arrivo di Falkenburg Scusate Costingerebbe A mandare in prestito Oltre che Lollo Almeno un altro O comunque Un altro Rimarrebbe in tribuna Un po' come Bowman Insomma E Donat San Fatemi sapere voi Chi fra i tre Preferite Quindi fra Badu Rabiot e Falkenburg Considerate però Che Badu Un pelino più forte Quest'anno Rabiot invece Diventerà più forte In futuro E Falkenburg Invece Già comunque Forte di suo Quindi fatemi sapere Se uno dei tre O comunque Prenderne due E comunque Fra Badu E Rabiot Fatemi sapere E' impossibile Prendere Badu E Rabiot Perché veramente Ragazzi Poi andremo a spendere Troppo E ciò non mi va E soprattutto Non mi va Mettere uno Fra Badu E Rabiot In panchina O comunque Andare in panchina Bovo O Vaugan Perché Vaugan L'ho voluto io Fortemente E comunque E' un ottimo Centrocampista E Bovo E' oramai La nostra bandiera Il capitano Della squadra Quindi E' insostituibile E quindi Fatemi sapere Per il centrocampo In difesa In difesa invece A parte che ci sono Un sacco di giocatori Che potremmo prendere Il problema è che Chiedono un ingaggio Esagerato Ho provato anche A chiedere Papadopulos Vediamo se Papadopulos L'ho scritto male Sicuramente Dallo Schalke E lo Schalke Mi chiede 10 milioni Il problema è che Poi lui mi chiede 4 milioni Di ingaggio Il nostro tetto massimo È 1.4 Quindi Cioè sarebbe Un difensorone Proprio Assurdo Soprattutto per lo Spezia Il problema ragazzi È il cash Ecco Degli ingaggi Quindi Ho provato anche A vedere un profile Svincolato Ci sono bei due giocatori Come vabbè Fabiano Santacroce Chi segue il Napoli Lo conosce Non è questo nome Altisonante Però non è scarso Chi è più famoso Invece Iepes e Gamberini Che non sono scarsi Iepes a me N'è sempre piaciuto Tantissimo Col Milan Ha sempre fatto Benissimo Pure con l'Atalanta Con la Colombia Ai mondiali Ragazzi Ha spaccato tutto Però È un po' più vecchiotto Invece Gamberini Non è scarso 32 anni Ex Napoli Pure lui Cioè no Pure lui Non come Iepes Ma come Santacroce E mi piace pure Gamberini Il problema è che sono andato a vedere Cioè Uno fra Gamberini e Iepes Avrebbe sostituito Uno dei due Boma Boma perché È richiestissimo E lo potremmo anche vendere A circa 15.000 euro Il problema è che Tecnicamente Boma è il più forte Cioè Veramente Supera di molto Iepes e Gamberini Poi veramente Gamberini e Iepes Li andremo a pagare Gamberini Verso il milione Per l'ingaggio E Iepes 400.000 circa No E alla fine Non convengono Perché I Boma Lo paghiamo pochissimo E Sì Qualità fisica Davvero Scarse Accelerazione Velocità Però non credete Che Gamberini e Iepes Siano molto meglio L'integrità fisica A 9 Però Giocando in tribuna Non è questo Tanto il problema Però Ha veramente Ottime qualità Tecniche Cioè potrebbe anche Essere un difensore Che è un po' Fra virgolette Imposta Quindi secondo me Io mi terrei Almeno per quest'anno A Boma E Amen E Spero che siate d'accordo Se non siete d'accordo Sul tenere Boma Perché purtroppo Li suzzo Nessuno se lo prende E quindi Diciamo Siamo un po' Costretti a tenerlo Quindi Se dobbiamo prendere Un difensore Ma andiamo via Boma Fatemi sapere Se siete d'accordo A tenerlo Considerando comunque Il fatto che Lo paghiamo molto poco E che tecnicamente È ben dotato Ecco E fatemi sapere Ecco appunto Poi ci sono Alcuni giocatori Vi faccio vedere subito Che vorrei prenderli Per girarli in prestito Perché mi sembrano Molto forti Maiello Che viene dalla Ternana In prestito dalla Ternana È un giocatore del Napoli Che ha svincolato A me sembra molto Molto forte Addirittura Potrebbe essere Un nostro panchenapero Visto che siamo pieni Di giocatori Io lo prenderei Più che altro E poi per girarlo In prestito A una squadra Di serie B Non mi sembra Affatto scarso Anzi Fatemi sapere Anche per lui E Beltrame Anche dalle giovani Della Juve Se non erro E pure lui Mi sembra molto forte È una prima punta E vorrei anche lui Girare poi in prestito A un'altra squadra Ripeto Fatemi sapere Se siete d'accordo Se riusciamo a prenderli Ovviamente E poi E poi Vabbè La prima punta Andiamo a vedere All'ultimo Fra i vari giocatori Che mi sono stati Proposti C'è anche Riccardo Quaresma E non è affatto Scarso Devo essere sincero Vabbè Giocatore Porto Inter Lo sapete Lo conoscete benissimo Quaresma È una bella Bella E anche un po' Sfortunata storia Perché nel Porto Veramente ha fatto Faville Nell'Inter Invece che stava pagato Cari Amaro Ha fatto un po' Così Un po' Schifetto Poi Nel Chelsea Besiktas Poi è anche Ritornato nel Porto Se non sbaglio Nel calcio reale Mi pare che Stia facendo comunque Abbastanza bene E Niente È già comunque Pronto a giocare Perché ha giocato Nel campionato asiatico E ha già fatto 18 presenze Con una media voto Di 7.47 Quindi Mi sembra già Appunto In forma partita Ditemi anche un po' Voi Aspetto vostri consigli A me è un giocatore Che piace tanto Mi pare che l'ho preso Anche nel Milan E mi fece bene Ripeto Può essere un buon giocatore Lo pagheremo Tipo un milione e tre Di ingaggio Nemmeno troppo Potrebbe essere Proprio L'alternativa Fellai e Bagua L'unica cosa Che se prendiamo lui Dovremmo girare in prestito Uno fra Costi Uno fra Keiko O comunque soprattutto Jovinco Anche se ripeto Jovinco Nessuno se lo vuole prendere Non so che dirvi Ultima cosa Quindi fatemi sapere Per Quaresma Il portiere Il difensore Quindi se sostituire Bauma o meno Centrocampo E i due giocatori Che vorrei girare in prestito E infine La cosa Da prima punta Ripeto Non ci sono alcuni giocatori Che mi avete consigliato voi Ma più che altro Perché non vogliono venire O non vogliono venire Oppure semplicemente Chiedono veramente Una cifra assurda Morata Ho provato a trattarlo Avete visto pure in diretta Nello scorso episodio Che siamo arrivati Più o meno A una cifra Di 9 milioni e 25 Con Real Madrid Ho trattato col giocatore Ma alla fine Da che mi chiedeva Tipo 2 milioni Mi ha sparato 4 milioni Di ingaggio E sinceramente Non ci abbiamo I dineri Per farlo venire Ecco Ora le alternative Sono due E l'ultimo consigliato Rescaldani Ma ve lo consiglio Sempre anch'io Comunque Fra Batuash Spero che si pronunci così Se non si pronunci così A pronuncia Così abbiate pietà Vabbè c'è anche Boimans Ma comunque Sarebbe proprio L'alternativa a Rocchi Non la prima punta titolare Ma l'ho lasciato così Giusto perché Lo pagheremo pochissimo Comunque Le due alternative Sarebbero Batuash E Rescaldani Prezzo Più o meno Molto simile Per Batuash Non so se è un bug O cosa Prima mi spara 16 milioni Cioè io gli offro 3 milioni Loro me ne riscattano Me ne chiedono 16 Io offro 5 E accettano subito Non so perché Lo fanno Comunque Per Batuash 5 milioni E sarebbe nostro Quale qui Ottime qualità tecniche Ottime qualità mentale Idem per le fisiche Ripeto Solo il colpo di testa Come già vi ho detto Nella scorsa puntata Mi puzza un po' Però Sti cacchi Cioè alla fine Veramente un giocatore Iper mega dotato Comunque molto alto E ripeto 5 milioni 1 milione 1 milione 2 milione 3 di ingaggio E sarebbe veramente Ottimo L'alternativa Sarebbe Ezekiel Rescaldani Giocatore che io adoro Ho comprato Già nella mia scorsa Carriera con Milan Ed è una Però mi pare Lo girai in prestito Ma perché avevo Balotelli Pazzini Eccetera Però ragazzi Guardate qua 1 metro e 91 1 metro e 91 Colpo di testa 16 Finalizzazione 14 Rigori 18 Velocità Massimo Elevazione Forza Accelerazione 15 E 15 Ragazzi Quindi è un campione Per 1 metro e 91 Avere velocità E accelerazione 15 E 15 Significa che È un mostro Nello scorso Campionato Ho giocato 20 partite Ho fatto 16 gol Quindi ragazzi Una media Altissima E 2 assist 2 volte migliori In campo Con una media Voto di 7.24 Quindi ragazzi Veramente un mostro Quasi un gol A partita E Vabbè Un assist Ogni 2 partite Ma non è Quello l'importante Sicuramente Non credo Che abbia giocato Titolare Quindi Considerate un po' Alla media Quasi di 2 gol Di un Un gol Ogni 2 partite Un po' meno Comunque Una media Molto alta Realizzativa Vediamo anche Batuo L'ultimo anno Che ha fatto Diciamo un po' meno Goleador Ha fatto 16 presenze Ha giocato Un po' meno Un gol solamente Con media Voto 6.65 Diciamo Forse Batuash È meno Prima punta Però Forse Tecnicamente È molto più Forte Rispetto a Rescaldani Quindi Decidete Fatemi anche sapere Voi in questo caso Soprattutto Fra le prime punte Sono molto Indeciso Poi in tutto Sono indeciso Perché Rescaldani E Batuash Sono tutti e due Giocatori Ottimi In prospettiva Fortissimi Hanno Più o meno La stessa età Lo stesso prezzo Lo stesso ingaggio Quindi Aspetto Aspetto Vostri consigli Come budget Ce la facciamo Perché 6 milioni Rabiot Quaresma Zero Maiello E Beltrame Zero Appunto E Batuash Rescaldani 5-6 milioni Quindi Arriviamo a 12-13 milioni Noi abbiamo 16.17 Ecco Quindi Credo di averci arlato Già tanto Un piccolo Riepilogo Velocemente Per il portiere Fatemi sapere Se mandare via Rido Perché Già la terza volta Ve lo faccio Ma comunque Consigliatemi Se mandare via Adan E quindi Prendere uno Fra Parin E Agazzi Come In difesa Fatemi sapere Se mandare via Bouma E semmai Prendere uno Fra Camberini Iepes Oppure Proprio un altro Anche che potremo Comprare Senza nessun problema Al centrocampo Batu, Rabiot E Falckenburg Fatemi sapere Chi dei tre Preferite E se Preferite Che io Prenda Che prendiamo Tutti insieme Uno fra Batu, Rabiot E Anche Falckenburg Che verrebbe a zero Poi Per Maiello E Beltrame Se siete d'accordo A prendere comunque Due giovani Da girare in prestito Sperando che poi Vogliano andare in prestito Comunque ci sia Qualche squadra Che se lo prenda Quaresma Più che altro Per la sua tecnica E la sua esperienza europea Visto che noi siamo In Europa League Fatemi sapere Se siete d'accordo A prenderlo E infine Fra le prima punta Consigliatemi Se prendete Batuaci E le scaldani Ripetendo che Tutti i giocatori Che vi propongo Sono tutti Comunque Allo stesso prezzo Fra di loro Ovviamente E lo stesso contratto Forse le scaldani Anche 800.000 euro Non 1100 Forse riusciremo Anche ad arrivare A tipo 800-900.000 euro Ma alla fine ragazzi Non è quello che conta L'importante È che giochino bene Detto questo Mi aspetto Tanti consigli Se no Alla fine Andrò avanti Io con un po' Le mie decisioni Un po' Anche Vedendo cosa succede Nel calcio mercato Quindi Condividete il video Questo per Crescere sempre in più Per far dare Anche ai vostri amici Consigli Per questo nostro Mitico Spezia Iscrivetevi Non siete iscritti Per non perdere Tutti i video Che stiamo facendo Soprattutto per non perdervi Lo Spezia E in Europa League E mettete un bel like Commenti A bomba Ragazzi Veramente Voglio un sacco di consigli Perché Facendo questo video Ovviamente non vado Più avanti Aspetto a voi Per andare avanti Credo che sia uno Proprio degli ultimi video Sul calcio mercato Perché se no Poi facciamo Parliamo troppo Del calcio mercato Appunto E quindi Come sempre Un saluto Da Mike94 Da Football Manager Ciao ragazzi